Sono Andrea Fumarola e frequento il corso di uvisivo presso l'istituto Da Vinci Ripamonti. Arrivo da un percorso di studi differente e la mia consapevolezza di cambiare deriva dal fatto che ho capito che quello che poteva essere solamente un hobby potesse diventare un potenziale lavoro nella mia vita. Ho cominciato ad appassionarmi al mondo del video e della fotografia grazie alla musica, che è la mia passione principale. Il mio cellulare non bastava più e quindi dopo i primi scatti e le prime riprese ho capito che dietro a un semplice video o una semplice fotografia c'è uno studio approfondito di tecnica e di composizione, nelle immagini come nella musica. Frequentare un indirizzo di studi mirato mi permette di studiare e acquisire tutte le competenze per raggiungere il mio obiettivo finale. Durante quest'anno scolastico ho realizzato uno stage presso lo studio di videoproduzioni arte in video, nel quale mi sono potuto cimentare in diverse situazioni lavorative. Tutto ciò che può sembrare banale e noioso attraverso un montaggio video può cambiare forma. La realtà si trasforma attraverso le svariate azioni del montatore video, con i vari taglia, copia e incolla si ha un potere sull'immagine reale. Ho capito che avere un obiettivo di risultato guida la ripresa, l'audio e la scelta della colonna sonora permettendo di avere un successo tangibile. Grazie. 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 Grazie.